e bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi siamo su fortnite perché voglio provare per la prima volta insieme a voi la modalità 20 versus 20 ragazzi so che voi dite xyuder ma l'hai già fatta oggi live no no ti sbagli amico mio questo video lo sto registrando la sera dell'8 marzo oggi è il 9 marzo e quindi non ho ancora provato la modalità 20 contro 20 vi ricordo ragazzi sono quattro squadre da 20 giocatori l'una se non ricordo male infatti vedo dentro 78 giocatori e ogni squadra è composta appunto da 20 membri ragazzi vediamo un pochettino com'è questa storia nel primo video che faccio su fortnite che non sia una live ragazzi secondo me vanno tutti a pinnacoli pendenti ovviamente ovviamente non potevano non andare a pinnacoli perché sennò non sono contenti no ecco bravo bravo mi piace mi piace anch'io vengo là anch'io vengo là dove vanno loro si sono già lanciati si sono già lanciati si sono lanciati si sono lanciati andiamo verso la in fondo che mi piace un sacco allora devo prima no no cambio programma no invece se io atterro ragazzi in quel cerchio la rosso mi dà l'ultimo obiettivo che devo sbloccare che è quello di atterrare in 10 punti diversi sulla mappa questi penso siano segnati con i cerchi rossi quindi andiamo ad atterrare là in mezzo al campo vediamo se siamo fortunati molto easy molto easy vediamo di scendere vediamo di scendere ok ok andiamo giù andiamo giù così vediamo l'atterraggio facciamo proprio l'atterraggio come ci viene consigliato dal marker che sta brillando e non so se ci siano in realtà anche gli altri giocatori tanto noi siamo atterrati molto bene ci ha fatto esplodere delle cose non sappiamo bene che cosa riguardino noi andiamo ragazzi a dare un'occhiata come al solito alle nostre case preferite che sono quelle che contengono forse un massimo di 5 chest vi ricordo che come minimo ne troviamo due come massimo possiamo trovarne 5 andiamo a vedere ragazzi così cattivi di prepotenza siamo gli astronauti che arrivano dalla missione Apollo 19 come potete ben vedere il nuovo costume di gioco eccolo qua e subito un chest mi sembra di vedere no no non è un chest semplicemente un una luce mi sembrava un chest mi sembrava un chest invece era solo una luce andiamo a prendere un po di risorse perché c'è un'altra missione che è quella di prendere le risorse bene così prendere un po di risorse andiamo a prendere ancora anche di qua perfetto ok ok e siamo lontani dalla safe ma ragazzi la squadra è ancora al completo questo è ottimo perché rimaniamo in 68 la squadra è ancora al completo noi ci prendiamo tutte le risorse necessarie per passare anche il livello oltre che riuscire ad avere appunto delle risorse per costruire avanti ancora avanti ancora vedo che mancano solo 20 secondi al restringimento della safe quindi deve partire obbligatoriamente la corsa purtroppo nessun arma per me siamo lontanissimi ragazzi siamo lontanissimi attenzione attenzione 10 secondi al restringimento della safe non so neanche se ce la faccio ad arrivare ad arrivare nella nella safe ragazzi non non ne sono così sicuro non ne sono così sicuro parte il restringimento parte il restringimento e io posso solo prendere le armi che trovo qua ma non posso certo fermarmi in nessuna casa prendiamo un po di proiettili prendiamoci le armi perfetto via così via così via così via così si sta stringendo si sta stringendo vai 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 siamo dentro in 16 ragazzi siamo dentro in 16 qua c'era un chest ma non lo posso guardare non lo posso guardare devo proprio sbrigarmi veloce devo proprio sbrigarmi veloce guardate come si va a stringere mancano due minuti e mezzo potremmo farcela senza troppi problemi vedo che ci sono delle persone nel nostro nella nostra squadra che non si stanno preoccupando di raggiungere la safe zone abbiamo un nostro amico a tomato town e ne abbiamo altri dietro che continuano tranquillamente a luttare tutto quello che c'è da luttare andiamo avanti ragazzi andiamo avanti e vediamo di non incappare nel problema della tempesta ma prima perché non approfittare di questa cosa e prendere un pochettino di roba interessante bene così bene così vai 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 andiamo 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 così andiamo così ragazzi molto good molto good di prepotenza ci stiamo incamminando verso la safe non vedo ancora nessuno volevo almeno giocare con un compagno di squadra mi piacerebbe averne vicino un altro vediamo un pochettino se siamo fortunati li aspetteremo diciamo una volta arrivati in safe per il momento vale la pena intanto andare in giro con un fucile a pompa questo deve essere fucile d'assalto tattico se non mi ricordo male rimaniamo in 15 52 giocatori dentro un minuto e 28 restringimento della safe quanto siamo lontani dai ci siamo quasi ci siamo quasi sembra non esserci nessuno allora prendiamo il tunnel per vedere se riusciamo ad essere un pochettino più veloci e per vedere anche se c'è qualche cosa da tirar su magari una bella arma vediamo un pochettino di qua nulla di qua nulla o è già passato qualcuno o semplicemente non c'era nulla allora proseguiamo proseguiamo siamo un po scoperti siamo vagamente scoperti ragazzi facciamoci un po di pietra così via 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 con un po di pietra riprendere il fucilozzo ok ok vedi che ci sono i stupidotti che rimangono fuori dalla safe porca miseria porca noi stiamo larghi invece noi stiamo larghi sembra che no è solamente il muro della tempesta che si sta stringendo quella cosa che vedevo a destra qua invece potrebbe tranquillamente esserci gente ma non mi sembra di vedere nessuno c'è un mio compagno di squadra là davanti vediamo di raggiungerlo vediamo di raggiungerlo perfetto abbiamo fatto molto bene a correre con un minuto e mezzo di anticipo in questo modo ci siamo garantiti la safe zone addirittura la possibilità di luttarci un paio di box che ci sono qua un paio di magazzini bene così infatti non sono stati luttati da nessuno ci prendiamo le bendoline molto mi hai preso le bende si preso le bende molto bene aspetta 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 vai in safe vai in safe vai in safe ok perfetto perfetto torniamo in safe niente ne guardiamo solo uno ne guardiamo solo uno vediamo se siamo un po fortunati intanto non andare in giro con questo ovviamente era già stato luttato era quasi scontato che fosse così voglio raggiungere quelli della squadra ragazzi siamo dentro in 15 e ci sono solo 43 giocatori ancora attualmente quindi vuol dire che se i calcoli non mi ingannano ne mancano 28 da killare ancora 42 27 in questo momento io proseguo ancora si stringe di nuovo la safe abbiamo un sacco di gente fuori non siamo in 15 dobbiamo ricompattare la squadra ragazzi dobbiamo ricompattare assolutamente il team di qua non sembra esserci ancora nessuno 17 secondi al nuovo ristringimento della safe voglio raggiungere questi due qua in modo da fare un mini team da tre vediamo se riesco a raggiungerli ci sono altri due là davanti molto bene ragazzi rimaniamo in 38 interessante davvero interessante davvero la partita vediamo dove sono guarda che c'è un altro della mia squadra guarda che c'è un altro della mia squadra bene che ci stiamo avvicinando bene che ci stiamo avvicinando ragazzi molto bene molto bene c'è tutta la squadra mia c'è tutta la squadra nostra ragazzi attenzione stiamo facendo un ingresso prepotente stiamo facendo un ingresso prepotente da 5 ragazzi che figata che figata 15 su 35 attenzione attenzione all'ingresso prepotente molto bene molto bene attenzione vedo anche sento anche degli spari sento anche degli spari ragazzi prendi le risorse per la missione prendi le risorse per la missione devo stare vicino alla gente devo stare vicino alla gente attenzione agli spari attenzione spari guardate che siamo tutti qua stiamo lasciando di prepotenza, la squadra si è stretta completamente, si è stretta completamente ragazzi, che storia, va come costruiscono, va come costruiscono questi, va come costruiscono questi, attenzione così ragazzi, attenzione così, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, stiamo stringendo di brutto, stiamo stringendo di brutto, ancora prenderci le risorse, ancora prenderci le risorse, via così, via così, sparano, sparano ragazzi, mamma mia, mamma mia che ingresso prepotente mamma mia non abbiamo armi però stiamo facendo un ingresso prepotente ancora così ancora così giù la roba giù la roba vediamo un pochettino vediamo un pochettino ragazzi vediamo un pochettino attenzione guardate il team ragazzi guardate il team siamo tantissimi siamo in 14 su 21 credo che la andremo a vincere ragazzi potrebbe essere la prima partita fatta e anche la prima partita vinta attenzione attenzione siamo messi molto bene siamo messi molto bene ragazzi 14 su 19 direi di sì direi che è nostra direi che è nostra ragazzi mi piacerebbe killarne almeno un questo è nella mia squadra pistola ok perfetto i tra 14 su 17 ragazzi attenzione attenzione gli schiacciamo in fondo gli schiacciamo in fondo proseguiamo così proseguiamo così mamma come siamo dei pro ragazzi come siamo dei pro di cattiveria di cattiveria avanti così avanti così ragazzi 14 su 15 credo che la stiamo per chiudere credo che la stiamo per chiudere manca l'ultimo mamma ma che squadra avevamo ma che squadra avevamo ragazzi così a stringere così a stringere attenzione attenzione dov'è quello lì dov'è quello che manca porco giuda fatti vedere fatti vedere partita la costruzione partita la costruzione attenzione tutti dentro tutti dentro a prendere la roba nella mongolfiera e mi chiudono giustamente il potenzione degli spari sono degli spari adesso mi killano a me vediamo un pochettino vediamo un pochettino attenzione attenzione ne manca uno ne manca uno dobbiamo andare a stanarlo dobbiamo andare a stanarlo ragazzi non sappiamo dov'è non sappiamo dov'è ma stiamo andando di brutto vediamo se lo killano 14 su 14 quindi abbiamo vinto perché non abbiamo vinto ah perché noi siamo in 14 e ci sono ancora 14 persone oh mamma mia oh mamma mia c'è 14 la nostra squadra e 14 sono i giocatori rimasti oh shit oh shit ero convinto che avessimo la vittoria in tasca ragazzi ero convinto assolutamente di avere la vittoria in tasca attenzione c'erano delle mongolfiere andiamo a vedere se riusciamo a prenderci le mongolfiere dove sono dove sono una è qua ragazzi una è qua andiamo a lutarci la mongolfiera troviamo il fucile leggendario andiamo a prendere il medikit al posto delle bende abbiamo lo scaracca leggendario ragazzi 12 su 12 contro 12 ragazzi 12 contro 12 attenzione 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 ci siamo anche luttati una mongolfiera devo rientrare insieme ai ragazzi dove va quello lì devo rientrare insieme al team ragazzi attenzione non so dove siano non so dove siano io come al solito faccio la sociale faccio la sociale vediamo se riusciamo c'è un chest oh shit c'è un chest attenzione vedi che fare la sociale ti serve per prendersi i chest dammi la pozione scudo andiamo a berla andiamo a bere la pozione scudo molto bene 12 contro 12 un'altra pozione scudo riprendiamo il medikit andiamo a sistemare un attimo le armi ragazzi così così e così perfetto perfetto ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo prendiamo di nuovo lo scaracca leggendario e avanti ancora ragazzi penso che qua non ci dovrebbe essere nessuno credo ma voglio rimanere comunque vicino alla squadra torniamo torniamo di là 11 contro 12 siamo sotto di uno siamo sotto di uno ragazzi attenzione attenzione situazione brutta situazione brutta siamo in svantaggio di uno ma sono convinto che riusciremo a fare le grandi cose ma sono anche convinto che qua ci sia un po di pietra da luttare lascio perdere lascio perdere avanti così avanti così ragazzi avanti così entriamo nel vivo entriamo nel vivo che loro stanno costruendo loro stanno costruendo non capisco molto ragazzi non capisco molto attenzione agli spari attenzione agli spari ragazzi attenzione arrivano arrivano i colpi arrivano i colpi di rpg ragazzi attenzione attenzione i colpi di rpg c'è qualcuno che sta sparando di là non sappiamo dove siano sono la in fondo sono la in fondo ok ok noi abbiamo il vantaggio dell'altezza ma 10 contro 12 ragazzi non va per niente bene mamma come non va bene ragazzi 10 contro 12 porco giuda come ha costruito questo porco giuda come ha costruito attenzione 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 non so dove sia non so dove sia attenzione 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 ce n'era lì uno ce n'era lì uno ragazzi ce n'era lì uno potrebbe esserci ancora 9 contro 12 cambia tutto c'era qualcosa di leggendario sbaglio c'è una pistola leggendaria che cacchio sto facendo che cacchio sto facendo attenzione ragazzi bad sito bad sito ragazzi really bad really bad e proseguo di qua proseguo di qua di nuovo lo scaracca leggendario lo andiamo solo a ricaricare avanti di nuovo avanti di nuovo ce la si può fare ce la si può fare ragazzi 9 contro 12 9 contro 12 via 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 rientriamo nella safe la prendiamo larga però la prendiamo larga torniamo dove sappiamo che non c'era sicuramente nessuno attenzione così attenzione così si stringe ancora si stringe ancora ragazzi ok si è stretta di nuovo si è stretta di nuovo io molto tranquillamente vorrei capire meglio la situazione c'è un'altra oddio oddio quante mongolfiere quante mongolfiere ci sono c'è una sugli alberi addirittura oddio il cespuglio oh 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 mi hanno sparato mi hanno sparato mi hanno sparato le grandi fughe ragazzi dove siete mi hanno sparato aiuto sono un morto che cammina sono un morto che cammina sono un morto che cammina ve l'avevo detto mi killano così mi killano così ragazzi peccato guarda questo guarda questo guarda questo devo ricordarmi di costruire siamo sei contro undici non so se la vinciamo non so se la vinciamo finiamo di finire di vedere le ultime fasi ragazzi le ultime fasi della partita questo è con noi questo è con noi attenzione vediamo un pochettino siamo sei contro undici non ce la facciamo non ce la facciamo e tra poco si stringe di nuovo tra poco si stringe di nuovo si va a prendere il fucile da cecchino leggendario guardate che figata di fortino che si sono costruiti tanta roba tanta roba ragazzi mamma mia mamma mia attenzione vediamo un po come finisce niente gli sparano voglio capire un attimo vedi lui costruisce così e così in modo che è comodo niente di strano vediamone un altro vediamone un altro ce n'è un altro col fucile da cecchino ce n'è uno per terra ragazzi attenzione vediamo questo per terra che intenzioni ha si è costruito dei muri di mattoni vediamo un po se riesce guardate cosa hanno costruito lì guardate cosa hanno costruito ragazzi ancora sei contro undici gli distruggono il muro attenzione 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 bravo 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 col fucile a distruggere tenta di distruggere tutta la roba di legno ragazzi vediamo se ce la fa vediamo se ce la fa mi sparano gli sparano ragazzi gli sparano vediamo un po vediamo un po entrano in due entramo in due brutta 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 brutto per lui non l'hanno visto non l'hanno visto non è possibile non è possibile non è possibile ah no sono i nostri sono i nostri attenzione c'è l'ignorenza più totale ragazzi 6 contro 10 6 contro 10 ce la si può fare ce la si può fare 6 contro 10 lui rimane qua andiamo a vederne un altro andiamo a vederne un altro guarda che casino guarda che casino 5 contro 9 4 contro 9 la vedo brutta la vedo brutta ragazzi 4 contro 9 è brutta 4 contro 9 è brutta attenzione 4 contro 8 4 contro 8 4 contro 7 3 contro 7 3 contro 7 non lo so ragazzi non lo so non lo so è tutto da decidere qua guarda quante armi ci sono guarda quante armi ci sono siamo ancora 3 contro 7 non ce la possiamo fare non ce la possiamo fare ragazzi buono colpo 2 contro 7 aia aia 2 contro 7 aia cosa fai fa poca gara sparare questo ragazzi dov'è quell'altro dov'è quell'altro quell'altro è a terra osti questo qua è a terra deve riuscire a essere tirato su ragazzi deve riuscire a essere tirato su da questo si sta avvicinando non sappiamo se ci riesce ce la può fare ce la può fare e li costruisce davanti sei deficiente si ma gli altri sono in 7 ragazzi oddio oddio gli sparano gli sparano non lo può tirare su non lo può tirare su va giù così 1 contro 7 1 contro 7 ragazzi non ce la si fa non ce la si fa vediamo un po' se fa il miracolo non lo può fare non lo può fare il miracolo ragazzi è rimasto da solo è rimasto da solo attenzione attenzione non si sa dove siano gli altri stanno correndo dappertutto dappertutto stanno correndo attenzione 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 sento passi ovunque sento passi ovunque anche lui penso che sia abbastanza contrariato da questa cosa però non sembra vedersi nessuno sono tutti camperati da qualche parte non capiamo dove ragazzi non capiamo dove ma sono tutti camperati attenzione qualcuno gli spara qualcuno gli spara attenzione la vedo brutta la vedo brutta e va giù così e va giù così ragazzi e va giù così peccato 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 beh ragazzi questa era la prima partita con no cioè gli altri poi si sparavano da soli non ho capito la prima partita fatta 20 contro 20 non è andata malissimo non è andata neanche bene 20 anche il mio livello beh ragazzi direi che per questo video è veramente tutto io vi ringrazio tantissimo per averlo guardato per esservi divertiti con me noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.